Ok, abbiamo 8 minuti e 51 per dire buongiorno a Via Cravasco per l'esima volta. Uno zombie si aggira vicino ai bidoni del suolo della raccolta differenziata. Guarda, quando ho bevuto con coca e rum... Non capisci più un cazzo. No, ma mi è salito... Cioè, tutto mi è salito. Tutta la vita ti è salito in una. Cioè, c'è... Cazzo, c'è un cazzo. A parte che mi ha dato due dita. Cioè, due dita di rum. Cioè, più coca che a rum. Cioè, no, sì. No, no. Marco, allora le guai come erano? Dimmi, dimmi. Parla. Stai facendo video? Nooo. il quale faccia formaggio ahahah noi siamo alle guaglie allora hawa auguriamo dai giù no guarda che tipo da white bebe aspetta aspetta che sto poi il video